... Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Attenzione. Grazie a tutti. Il treno regionale, proveniente da Fara Sabina, è diretto a Fiumicino aeroporto, delle ore 16.16, è in arrivo al binario 5. Il treno regionale, proveniente da Fiumicino aeroporto, è diretto a Poccio Mirtengo, delle ore 16.16, è in arrivo al binario 1. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, proveniente da Fiumicino aeroporto, è diretto a Fiumicino aeroporto, delle ore 16.16. 16.31 è in arrivo al binario 5. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale delle ore 16.23 per Cesano di Roma è in partenza dal binario 3. Il treno regionale delle ore 16.31 è in partenza dal binario 3. Il treno regionale delle ore 16.31 è in partenza dal binario 5.31. Il treno regionale delle ore 16.31 è in partenza dal binario 5.31.